Ok, sei? Perfetto. Cosa sei? L'ho usato qua, qua, qua. Vieni, mi sono un po'. Il pulsare l'aletto è giusto, poi da lì vada lì sul volto. No, fino a strumento. Poi che è stato con l'uomo, non o che cosa vuole? Nel smartphone, ti dimenticiamoci. E, grazie. È una buona strumenta. È una buona strumenta, un po' è ancora più grande. È un ascolto. 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 no sei giusto vuoi mollare non è vero oh badudu badudu li li ma badudu là non 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.